Che stai leggendo? No, è che mi ha messo un po' come top 25 Cioè, il nostro top 25 è... Chi è il nostro top 25? Non lo so, o... Individuerei... Chimera? Non so Chimera... Forse sta un po' più... Non saprei che... Vabbè, andiamo a commentare quindi questa grand final tra... La grand final che comincia... Eh, questo è un bel problema La nuova generazione di Terrons Che quindi si va a conquistare questo torneo di compleanno dell'organizzazione E comincia immediatamente con Bowser Jr. Quindi Emi decide di andare per il personaggio che sta utilizzando di più in queste fasi finali E con cui ha eliminato appunto la vecchia guardia Simmax Che ha dovuto lasciare il passo appunto alle generazioni più giovini 34-39% per ora molto equilibrato il match Decidono per Smashville Smashville che è un'arena che va a favorire chi secondo te? Beh, tra Bowser Jr. Cioè innanzitutto il matchup sembra molto a favore secondo me Di Ness ovviamente Però dopo i scorsi buff Bowser Jr. è diventato un personaggio un tantino più viabile sicuramente Allora Emi devo dire la verità Ci ha giocato tantissimo Si trova molto molto bene Con tutti i suoi tre personaggi Peach, Wario e Bowser Jr. Su questo stage Ma allo stesso momento Vediamo che Ness può fare stringhe molto molto durature Con il suo fail utilizzando anche la piattaforma ShakeStyle se vogliamo dirlo E può prendersi quindi una kill abbastanza prematuramente Però allo stesso tempo Bowser Jr. è anche abbastanza pesante E subisce meno danni sulla parte inferiore del corpo Arriva la testata intanto a prendersi la prima stock su Bowser Jr. 1-0 Esattamente Perché aveva una percentuale troppo alta Anche se è stato preso sulla parte inferiore del corpo Ehm 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 Questo fail che però non uccide ancora Ehm Non poteva fare niente Quindi si Non ce l'ha fatta Poteva provare però una B Poteva provare la B almeno Esattamente Una speranza diciamo Comunque Ritorno a Bowser Jr. Ricordiamo Dinamir in winner fa In Winner Serve bad Vabbè Comunque Quarattura 28 Dicevo La grafica è un po' quello che è Perché Esatto Perciò Perciò voglio chiamare Stavi cercando di No vabbè Dovete solo spostarla così Guarda Modifica scena Faccio io Nel frattempo tu commenta 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 Faccio io Commento Questa cosa Ehm Ehm è rischiato tanto Riesce a steccare Putstool Anzi no Perché è stato colpito da Da Ness L'ha rallentato Ehm Quindi è riuscito A game park in questo momento Vantaggio Vantaggio Da parte Di Ehm Di Ehm Con questo suo Bowser Jr. Devo dire la verità Ehm Un gioco sublime Con tutti i suoi tre personaggi Io spero davvero A me particolarmente piace proprio Bowser Jr. Io spero vivamente Di vederlo a Liga Russo quest'anno Ehm Purtroppo L'unico suo difetto È che Viaggia molto Raramente Ehm Potrebbe viaggiare Per arrivare a Bologna Noi abbiamo Abbiamo Stiamo cercando di forzare Che un giocatore come lui Deve farsi vedere Nella scena internazionale Assolutamente In visione di un power ranking Non può stare Una Una top 40 Quale si prospetta D'avere con i soli risultati Lì alla terra Se attenzione Comunque Intanto arriva al back throw Da parte di Dina Che 87% Sì 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 Contro Ehm Come back assoluto Da parte di Emi Che sembrava aver preso Un gran vantaggio Infatti Quanto percentuali Dinamira già stava soffrendo Su gli 80 90% E Emi aveva perso Il primo stock Ma in una situazione Di edgeguard Dove Emi Rischia Sempre tantissimo L'abbiamo visto anche Allo scorso Alla scorsa Derrons League E rischia inutilmente Come ci dice lui stesso Comunque Secondo match Andiamo su Battlefield Sempre Bowser Jr Sempre Ness I due personaggi scelti Dai finalisti Come va in Battlefield Ehm Allora Ness Diciamo che Non Cioè Dinamira Mi disse Che Non piaceva giocare Proprio su Questo stage Bowser Jr Potrebbe sfruttare I suoi aereo Che hanno un range Abbastanza discreto Per Per poter Sfruttare Lo spacing In un certo senso Prima si è visto Come ha sfruttato La piattaforma Appunto Per mettere in combo Una tripla A pair Uh L'ultimo Bellissima Back air Esce dalla clown Dalla clown card No è il Dalla carta Dalla carta del clown Bellissima Comunque Quando esce Dalla clown card Bowser Jr Ogni aereo Che ha Corrisponde Attenzione Sempre al martello Sempre al martello Direzionato Quella era una back air Quella era una back air E' un aereo Sempre generico Allora in questo stage Il vantaggio comunque È di Bowser Jr Perché Ness soffre In quanto Il tetto è un po' più alto Ok E quindi E quindi Back throw A pair Questi tipi di attacchi Sono molto nerfati Da questo punto Quindi uccide Molto Molto Più il dart Ma comunque La back throw Risulta diciamo Un pochino Nerfata Può killare verticalmente Di up air Però Essendo che il tetto È leggermente più alto Rispetto Mi pare Battlefield Da un tetto Un po' più alto Sì Quello che stavo dicendo Il tetto è più alto Quindi C'è un counterpick Perfetto Per Ness L'intervista Attenzione Però è anche vero che No Bowser Jr Ce l'ha qualche kill Verticale Up smash Cioè Però può sfruttare meglio Le piattaforme Back throw Allora Bowser Jr In generale C'è una petenza assurda Se riesce a mettere la kill throw Non c'è tetto Che tenga Letteralmente Sì Quella cosa lì Secondo me Con la 148 di rage E arriva a smash Però Troppa poca percentuale Anche se ha un effetto rage massimo Effetto rage Il 154% Ok Invenzione Ha cercato Con il fair E arriva 160% La percentuale è troppo troppo alta 98% Ma abbiamo già visto prima Dina mirror Un comeback Davvero assurdo E siamo ancora a due stop Comunque Eh sì Intanto arriva la sgommata Da parte di Bowser Jr Bello questo fair A tenere lontano Ness Questa volta può provare Va a sbattere sulla ground car Però Ha cercato un ridd assurdo Eh sì Vediamo Ancora sgommatone Però questa volta Alzata a mezz'aria Non riesce Ricordiamo che la sgommata Offstage Da parte di Bowser Jr Bravissimo qui Emi Che volutamente pensò Che riesca a rubare Il pigatante Ariglione Spedisce Tanto l'ammazzata Con cui rispedisce Il giocattolino A casa sua La sgommata di Bowser Jr Stavo dicendo prima Messa offstage Significa Il reset del side B Quindi può usare Il side B Più di una volta In questo modo Emi è bravissimo A farlo Perché è un matto È un matto Offstage Comunque 10-84 Comunque Dynamirer Sta trovando Tutti i modi possibili E immaginabili Per cercare di pareggiare Questa Stock Ci sta riuscendo Emi ora come ora Non riesce a trovare Un filo di respiro Sta prendendo Comunque Comunque Arriva la Bayre Arriva appunto La Come dire La riconferma Della giustezza Del counter Se giustezza Si può dire Se giustezza Esiste In italiano Perché giustizia Del counter Non si può sentire Sembra tribunale Arriva ancora la Bayre E Dino ci fa vedere I superfetti Blu Che hanno Che l'hanno Se non sbaglio La Bayre Ha realizzato La campagna Con una palla La politica Off topic Che dura Perfetto Dicevo La Bayre Tra l'altro Dovrebbe risultare Neffata Contro Bowser Jr Specialmente Per la presenza Della Clowncara Anche Mi pare che faccia Un tot per cento Di danni E forse anche Meno knockback Se prende Il Se prende La Clowncara Con la Bayre Si 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 Esattamente Fa meno danni E meno knockback Il Mi penso Un per cento Di danno in meno Battlefield Da come ora Quindi sembra L'arena perfetta Diciamo Per un Bowser Jr Per counter Piccare Nessi più che altro Si Tra l'altro 50 per cento Di vantaggio Che diventa 40 Con questo Giocattolino Through Backair Arriva ancora La Payre Vediamo Bella Questo approccio Di down air Viene messo di nuovo In posizione scomoda E poi allontanato Con questa neutral Meravigliosa Però riesce a ritornare E' bella La lettura di Amy Che quindi porta il match Sull'1 a 1 Grande Grande lettura Da parte di Amy Che ha fatto un edgeguard Fantastico Con Prima Usando il Fair Poi Girandosi Con il neutral B Dopodiché Lettura Con l'app smash Potentissimo Edgeguard Perfetto Quindi Match 3 A questa volta La selezione Della stage Va a NES Ricordiamoci Che la regola Della stage Clause E' attiva Non potrà Quindi prendere Battlefield Per un Per un prossimo A meno che L'avversario Non voglia andare Su Battlefield In quel caso Si può Penso difficile Omega Warplanes Omega Allora Omega è uno stage Molto buono Per Pastor Junior In quanto Può sfruttare La Copalynx Che Con il suo movimento Lento Molto Lento Dà fastidio A tutte Le opzioni Di Landing Dei Dei Avversari Ness Però Bisogna dire Che Ness Ha un gioco aereo Molto interessante Neutral Game Quindi Questa cosa Potrebbe essere Ovviata Vediamo come andrà Una cosa Ci sono precedenti Tra Dinamira e Rennie La Grand Final Della Terras League Numero 3 Vinta Da Dinamira Oh Sbaglia Qui il ritorno Perché Rennie Diciamo Tra i top player Tra la top 3 Della Terras League Vogliamo contare Sim Dina E Emi L'unico che non ha mai vinto una Grand Final Vedi Li ha resettato E ha recuperato benissimo Bravissimo Bravissimo Veramente Emi Deve ancora vincere una Grand Final Però Partirà la loser Non sarà facile Però ha tutte le possibilità Come vediamo Comunque Sta mettendo alle spine Uno dei giocatori Che comunque Anche a livello nazionale È riuscito ad imporsi Più Sì ma Emi Dal punto di vista nazionale Giocando online È molto Molto conosciuto Molto ben visto È Comunque È votato Uno dei Migliori giocatori Sicuramente Un top 50 italiano Sì sicuramente Io sarei di rank top 30 O top 20 Per quanto Io so perché Non lo conosco molto bene Lo vedremo a Ligeros Perché lui verrà Comunque Nel frattempo A pair E dinamirer Si pareggia Prima che la percentuale Di vantaggio Di Bowser Jr Che riesce a mettere Triple a pair E quindi Ad applicare la caster course Diventasse troppo alta Esattamente Però vediamo Come dinamirer Ha recuperato Una Cioè Si è risuscitato Sì Attualmente Sta giocando Un po' meglio Dinamirer Si è risuscitato Una percentuale Molto Molto Bassa Sta facendo recuperare Sta facendo recuperare La percentuale 45 a 46 Arriva al 91 È bello Questo hot B Che connette col back air Del martellone Ha rischiato schivando Perché Lo spot dodge Da quel che so Aumenta il momentum Del knockback Quindi se l'avesse fatto Un momento prima Lo spot dodge Sarebbe morto Dinamirer Perché Il knockback era davvero Davvero tanto alto Eh si Back air intanto A contrastare questa side B Da parte di Bowser Jr Si aggrappa al bordo Arriva al neutral air A contrastare Il rientro dell'avversario Bello questo BK Thunder A prendere ulteriori danni Bello questo approccio Di down air E arriva Il back air Che dà la seconda stop Ottima lettura Ottima lettura Emi è un giocatore Che sa leggere Molto molto bene Le situazioni Vicino all'edge Non proprio edgeguard Ma simili Ma in generale Tra sim Dinamirer E proprio Emi Back throw E non uccide Perché il senso è abbastanza alto Dicevo tra sim Dinamirer E Emi La peculiarità Di questi tre giocatori Che hanno in comune Sicuramente Una capacità di edgeguard Davvero davvero ottima Tutti i tre Sono Portanoi 35% Che diventa 49 Dopo due pammel Uh Troppo tardi la mazza Per pochissimo Ancora la pair Che viene parato In perfect shield Bravo qui Emi Con il down air Però si prende tutto Un pick and fire E prende quindi anche La combo down drop air Vediamo Ancora fair Da parte sua Non può usare la stringa Perché oramai Ha percentuali troppo alte Sia lui Che Bowser Jr Vediamo 72-69 Praticamente un pareggio Arriva Una bella Uh L'ultimo colpo Del pick and fire Evita il knockback Una cosa è successa Più di una volta Arriva il fair Attenzione L'up B Non va Up air Non kill A questo punto Una back throw Potrebbe mettere fine A questa partita Per In favore di Ness Nei confronti di Emi Perché a questo punto Purtroppo La down air Mi sa che è un po' Troppo telefonata Dovrebbe trovare Un altro tipo di approccio Bello Questo è il vantaggio Assolutamente di Ness Perché c'ha Potete avversare Da parte Di Ness Che colpisce dritto nei denti Distruggendo La clown car E soprattutto Bowser Jr All'interno di essa E quindi dando il secondo punto A Dinamirer In questa grand final Spettacolare Abbiamo assistito Non solo a Smash Bros Ma anche a Baseball Bros In questo caso A Baseball Bros Meraviglioso E a questo punto Quindi va a Dinamirer 2 a 1 Era davvero molto telefonata Probabilmente Avrà occupato Il tasto Della Comunque parlavamo Di Emi Mart Parlavamo di Emi Per Ligarus Ciao Mart Ciao anche a Pegaso A Master Pegaso A Markix Comunque ci stanno raggiungendo Per vedere questo Bellissimo match di grand final Che Dinamirer Sta conducendo per 2 a 1 Sul suo avversario Anche se gli sta dando davvero Del filo da torcere Vediamo che Anche con la stage Klaus Emi è andato su Battlefield Dinamirer ha accettato Questa scelta Eh si Anche se Se Emi ha vinto Su questo stage E questa perché Forse non lo trova Troppo svantaggiato Esattamente Penso che Penso che comunque Si senta in grado Di saper gestire Una situazione del genere E poi comunque A disposizione del quinto match Dove può scegliere lui Lo stage E arriva Eh questa manzata Baseball Sta facendo La sua figura In questo matchup Eh si Abbiamo visto prima Abbiamo visto adesso Che respingendo Il Copanix In questa direzione Che però non killa E diventa Proprietà di Ness Cioè esplode A contatto di Di Bowser Jr Quindi davvero Molto utile Arriva la pair E quindi la prima kill Ma tutta a Ness Attenzione la pair Potrebbe essere L'ultimo match Di questo torneo Di compleanno Sarebbe davvero Un peccato per Emi Che si vedrebbe Sfuggire ancora una volta Un torneo Dopo aver giocato Veramente In maniera meravigliosa Tra l'altro Non so perché Non Bella questa comba Ancora fair Triple fair Stavolta non cade Di sotto Però Dina Ancora il back air Bella la lettura Sul down air Prova il down air A sua volta Però Troppo in passo Mi potevo punirlo male Perché Bowser Jr Era uscito dalla clown car Un colpetto Più debole il colpo Meno è la probabilità Di Bowser Jr Di riavere La sua clown car Quindi sarebbe stato Tipato Bella la lettura Perfetto Emi è molto Molto bravo A fare questa cosa Lo fa continuamente Sa leggere Perfettamente La tua risalita E puniti Di conseguenza Comunque 0-69 Siamo Sono i 19-40 Nel frattempo Il tempo Vola ragazzi 38-72 Siamo perfettamente in orario Sì Praticamente 38-79 Attenzione Riesce ad approcciare Di down air E poi a mandare lontano L'avversario Qui ha provato Lo left smash Troppo lontano Vediamo Clown car E poi martellone 69-79 Praticamente Parità assoluta Tra i due Per questo match Siamo 2-1 Invece per Dinamirer Che è tra l'altro In winner Grand final Quindi se dovesse vincere Questo set La partita finirebbe Se dovesse vincere Emi invece Ci dovrebbe giocare Un'altra Best of 5 Per decretare Il vincitore Un reset Che Emi può meritare Ma Dinamirer Non sta Eh no Qui è sbagliato Qui è sbagliato Ha provato la down B Sulla Sulla palla Eh sì Vabbè per interrompere Il momento Più che altro E non farsi prendere No si è preso Si è fatto prendere Eh Ha calcolato malità Probabilmente Vediamo Uh Arriva Intanto questa Questa fail Ancora una volta il vantaggio Di Di Sì Penso Stia giocando a suo Grandissimo favore L'arena Comunque Perché Fa fatica A trovare La kill Insomma Si sta rischiando tantissimo Perché si sta esponendo Molto Molto Però Questa è un'altra Le peculiarità Di Emi Sta sempre Quando colpire Quando espursi Eh sì Questa volta però Il side B non va E punisce Di Apeir Dinamirer Portando il tutto A quella che potrebbe Essere l'ultima Stock Del torneo Del torneo Per Emi Siamo 2 a 1 Tra Dinamirer E Emi Ricordiamo Dinamirer In Grand Final Apeir Più up hit Poi parte Ancora a cercare Altri Apeir 2 apeir Sono 3 No Il terzo lo schiva 54-59 Vediamo Ancora Feir Ancora Feir 54-94 96 Ancora Feir Altissima Ragazzi siamo Verso le fasi finali Eh sì 109 Se Dinamirer Riesce a essere Concreto Portiamo Sono entrambi Ad una stock Ma Dinamirer Se dovesse prendersi Questa stock E vincerebbe il torneo Da il Rosato No Ma la ladrata Assurda di Emi Che fa 2 a 2 Quindi su questo Misplay da parte Di Dinamirer L'errore di Dinamirer Che Si è un pochino Si è imbrogliato Le mani Avendo il Il Comanix in mano Non sapeva cosa Cosa farne Allora l'ha lanciato Ed è andato sotto lo stage Quasi involontariamente E lì nel casino Non è riuscito A prendere la direzione giusta Per riprendersi col Picket Hunters E quindi salvarsi 2 a 2 Ora la possibilità Mi è vincita Battlefield secondo me Ha funzionato Nel senso che avrebbe potuto vincere Se non fosse stato per questa cosa Quindi Peccato Ha lasciato il counter Pic che ha fatto bene Tornano su Smash Village Quindi Stage Close Completamente ignorata Dai giocatori Probabilmente Non gli danno molta importanza Eh si Eh si Non sono Non tengono In Natale Si dice Napoli Cazzimma Da Si si Uno scoltero Da togliere Altri stage Perché comunque Qui alla Terrons Top player Della Terrons E non Siamo tutti Molto amici Siamo molto Molto sportivi Tanta Pair Ancora Pair Non la vediamo Continua di a Pair Anche Bowser Junior Festa della Pair No Questa volta colpisce Con il Pair 52 65 Bravo a indietreggiare E provare il back air Ma c'è il perfect shield Da parte di Ness Approcci down air Punito dalla back air Di Ness Lancia il cosino Che però non va a sbattere Su Bowser Junior In Invincivility Bravo a lanciare In alto qui con la Pair Il suo avversario Ness Evita il giocattolo Giocattolo Approcci down air Viene preso Quattro pammel E F throw da parte di Ness Siamo a 115% A 52 Una back throw Potrebbe significare La prima stock Andata per Emi Diventerà tanto dalla posizione Vediamo Bella questa mazzata baseball Che va dritta Dritta su Su Bowser Junior O meglio Sull'animaletto di Bowser Junior Che poi va a sua volta Su Bowser Junior Proprietà transitiva Qui su Smash Brothers Attenzione Che ha mangiato il salto Sì Prova il neutral air No Esperimento fallito E questa back throw Quindi va a punire Anche cattiva di Emi A parte di Emi Probabilmente Ma non avrebbe Sì esattamente 90 a 19 Vediamo il down throw Che connette ancora Con la Pair 41% Che diventa 55 Su questo neutral air Tirata alla perfezione Vediamo PK Fire Ancora PK Fire Tre pammel E poi viene messo in una posizione Squamoda grazie all'effthrow Prova ancora la Pair Non ha provato a dar fastidio Col PK Thunder Prova il neutral air Qui Ness che riesce Riporta Bouter Junior Una bruttissima percentuale Sta Ha preso un grandissimo vantaggio Ecco la Pair Centro Non vuole perdere tempo Perché suo padre Lo sta venendo a prendere Col furgoncino Giusto così Intanto No Petta fa brutte migliorazioni Non va bene Ha detto che se vince Dina viene Va bene Vieni a Licarus A Licarus Intanto neutral air Con il quale Si prende questa seconda scossa Il punish Però una stop completa Di vantaggio E' un vantaggio Per Ness Non escludiamo assolutamente il comeback Con l'erroraccio da parte di Namirer Ma anche l'erroraccio da parte di Emi Che potrebbe mettere fino adesso A tutto questo A tutto questo Torneo Io ho fatto proprio Castrcorsi In modo che queste cose non succedano Ma come No Intanto 40-40 Perché Castrcorsi Volontaria La Castrcorsi Volontaria Non funziona Ok Attenzione Oh i danni presi anche dal Copanix Ancora Non gli viene spinto Attenzione A parte lo io Io ho Questa match Forse un po' misplicato Arriva il back air Pkfire che non va Sul 6b Un po' in alto Vediamo Il fail Ha recuperato tutto Emi Perfetto Emi Però ancora potrebbe tornare Potrebbe tornare Sì no L'ha equipato perfettamente Eh sì Eh sì Quindi Entrambi a una stock Ricordiamo Potenzialmente Ultima stock No Ultima stock per entrambi Di questa Di questa Grand final Luzer Ultima stock per Emi Nel torneo E Sarebbe un'altra possibilità Per Per dinamire Eh sì Vediamo 111% però È tanto 111% è veramente un sacco Specialmente con un personaggio Come Ness Che si mette in una troia infinita Ok perfetto Down air Arriva il fail Però c'è la per Da parte di Ness Eh no Praticamente si è andata a consegnare No 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 Quanto una buona di AI Perfetto C'è ancora Però 146% Rende ancora più difficile Il tutto qui 10% di danni Per Ness Che riesce a prendere L'animaletto E quindi Finisce così Con l'animaletto Di dinamire O meglio L'animaletto di Emi Che va a mettere Emi stesso Dinamire Vince quindi questa Quinta edizione Della Terrence League E diventa il campione Di questo anno solare Di Terrence Che non è anno solare Perché è anno di Terrence Quindi Eh Peccato per Emi Che ha perso Con i propri proiettili Se ricordiamo L'home run Con il cannone Poi ora Il Copa links Quindi Peccato Peccato per Emi Che ancora una volta Non riesce a vincere Una gran fana Seconda Terrence